Berardi al Milan? Cosa ne pensate? Ne parliamo oggi al TG di Cimelan Inside insieme ad altre notizie. Nella finestra di mercato invernale è stato infatti accostato il nome di Berardi al Milan. Fonseca vorrebbe infatti un'alternativa a Pulisic non essendo contento di Ciocqueze. Quindi la destra potrebbe tornare in Serie A dopo la retrocessione del Sassuolo. In questo modo tra l'altro Pulisic potrebbe passare nel ruolo di attaccante centrale. Passiamo invece a Cesare Casadei che non sta trovando spazio in Premier League con il Chelsea. Anche lui quindi potrebbe tornare in Italia e ci sono diverse squadre interessate a lui tra cui il Milan. Passiamo adesso alla parte internazionale. Ieri sera post Portogallo-Scozia che si è conclusa per 0-0. Leao ha affermato che in Portogallo sente il sostegno di tutti e ha la fiducia dell'allenatore. Sarà forse una frecciatina a Fonseca? Altra partita internazionale è stata Spagna contro Serbia in cui si sono trovate avversari Morata e Pavlovic. Morata che ha sbagliato il rigore durante il secondo tempo ma la partita si è conclusa comunque 2-0 per la Spagna. Serata da dimenticare invece per Pavlovic che sul finire della partita ha commesso un fallo che è costato il cartellino rosso e l'espulsione in seguito al controllo del VAR. Un accenno alla partita di sabato perché è stato disegnato l'arbitro di Milano Udinese. Sarà infatti Daniele Chiffi mentre al VAR ci sarà Mariani. Per oggi è tutto, ci vediamo domani con un'altra puntata del TG 10 Milan Inside. Grazie.